Mesi fa la lungimirante stretta di mano fra Lega Navale e Liceo Marconi, benedetta da Comune di Pesaro e Regione Marche, ha intavolato un progetto risultato meritevole di un finanziamento attraverso il Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca. Questa mattina quel finanziamento si è definitivamente tramuntato nel taglio del nastro ad una nuova struttura, sorta su un blocco di servizi prima dismesso e poi demolito. Inaugurato un nuovo hub in cui la vocazione sportiva del liceo può ora declinarsi nelle attività di vela e canotaggio care alla Lega Navale. La realizzazione concreta di questo progetto in collaborazione con il liceo scientifico, il quale con la sua sezione sport, diciamo sport, c'ha una branca che pratica lo sport nautici, veva. Già attualmente, da quanto mi risulta, loro si spostano in altre zone per praticare questa attività che qui a Pesaro non c'era la possibilità di farlo o perlomeno ritenevano non possibile. Adesso con questa soluzione loro avranno la possibilità di utilizzare questa zona che noi avevamo in concessione. L'iniziativa è che parte da lontano, circa tre anni fa. Abbiamo avuto questa idea, venivamo qua a fare lezioni di filosofia, di fisica e ci mancava un posto dove avere un presidio naturale, permanente, anche per poterci ad esempio cambiare. Con l'avvento dell'indirizzo sportivo poi questo luogo è diventato anche una scuola di vela, di canottaggio, di attività nautiche, acquatiche. Quindi era naturale per l'iceo scientifico avere un presidio permanente. Ci siamo interfacciati con altre amministrazioni pubbliche. È andato tutto bene, ci hanno creduto, ci ha creduto la politica e oggi siamo qua a inaugurare una cosa che sarà un punto cardine, una rivoluzione copernicana nella didattica perché noi qui veniamo a fare lezione di tutto, non soltanto di vela e sport. Si tratta però di un blocco di servizi dalla duplice funzione, privata con locali e spogliatoi destinati alle attività di soci della Lega Navale e del Liceo Marconi e pubblica con la riqualificazione dei bagni necessari soprattutto ai frequentatori della spiaggia libera di Baia Flaminia. Un salto in avanti di senso civico, applaudito dal sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Riccardo Pozzi, ma anche dall'assessore regionale Francesco Baldelli che ha elevato Liceo e Lega come un modello funzionale a ripensare alla maniera in cui pervenire a questi fondi. Questo significa che la dirigenza del Liceo Marconi ha avuto una visione a lungo raggio, anche dall'insegnamento che ci arriva dalla pandemia dobbiamo ristudiare e ripensare i bandi per l'edilizia scolastica nella nostra regione. Innanzitutto gli istituti devono essere flessibili nel loro utilizzo e anche qui il Liceo Marconi nella città di Pesaro ne ha dato un esempio, ma soprattutto quegli istituzioni che verranno premiate saranno quelle che penseranno anche agli spazi esterni.